Avete mai pensato che la vita forse non è solo essere belli, 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 belli in modo assurdo? Insomma, forse dovremmo cercare di dare un po' più di senso alle nostre vite. Aiutando il prossimo. Derek, quale prossimo? Non lo so! Il prossimo che arriva! I modelli aiutano il prossimo. Lo fanno sentire bene con se stesso. E gli fanno vedere come ci si veste figoso e mille modi di acconciare i capelli. Esatto. Se lo dite voi. Cosa è che ti può aiutare a risolvere queste importanti questioni? Che cosa? Ora, sfoca frappuccino! Viva! Andiamo a test! Alla prossimo! Sì, sì, sì. Zoolander, un modello di idiota. Sì.